Anche quest'anno sta avvolgendo al tema un anno molto impegnativo per i reparti della Guardia di Finanza di Taranto che oltre a svolgere i loro compi istituzionali hanno concorso anche con le altre forze dell'ordine sotto l'attenta regia della Prefettura a far rispettare le normative di volta in volta approvati sul Covid. Approfitto di questa opportunità e vi ringrazio per rivolgere un augurio di buon Natale e di buon anno a tutta la cittadinanza tarantina sia della città capoluogo che di tutta la provincia. In questo augurio raccomando a tutti i concittadini e gli abbinanti della provincia di rilassarsi, di godere di queste ferie, di queste vacanze che si avvicinano ma soprattutto di fare attenzione, di dare una mano alle forze dell'ordine nel contenimento di questa quarta ondata che ci sta mettendo a dura prova anche in questa fase ultima dell'anno. Auguri a tutti, buon Natale e buon anno. Auguri a tutti, buon Natale e buon anno. Grazie. Grazie.